Regole più stringenti anti-covid a Teramo. Il sindaco Gianguido D'Alberto ha disposto già a partire da questo sabato la sospensione temporanea dello svolgimento di tutti i mercati settimanali, locali e frazionali del territorio comunale. Si tratta di una decisione tesa a contrastare, contenere e diffondersi di questa pandemia, con particolare riferimento al divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale. I mercati settimanali, infatti, richiamano un notevole afflusso di persone provenienti anche dai comuni limitrofi, oltre a determinare lo spostamento extraterritoriale degli stessi operatori economici e ciò costituisce grave pregiudizio per il rispetto delle norme. Contestualmente, nella veste di Presidente regionale Anci, D'Alberto ha inviato una richiesta formale al Presidente della Regione Abruzzo Marsiglio, invitandolo su sollecitazione di larga parte dei sindaci a valutare di adottare analoghe misure sui mercati all'aperto dell'intero territorio per le identiche motivazioni di Teramo. Il sindaco ricorda, inoltre, che le misure di rispetto dei protocolli sono sempre più difficoltose ad essere controllate a causa delle esigue forze di polizia locale in questa situazione particolarmente sotto pressione. E per essere maggiormente incisivi ed efficienti nella lotta al Covid, il Comune di Teramo dispone anche la riapertura del COC, il centro operativo comunale. Intanto, sempre entro questo fine settimana, all'interno dell'autoporto di Roseto degli Abruzzi, verrà allestita una struttura che permetterà a tutte quelle persone i cui medici di base hanno inoltrato richiesta alla ASL di effettuare il tampone in tempi rapidi e in piena sicurezza. La struttura non sarà a disposizione del solo Comune di Roseto degli Abruzzi, ma dell'intera vallata del Vomano.